Buona giornata a tutti, oggi è sabato 12 giugno, questa è Fano TV, canale 17, occhio ai giornali, il commento alla stampa del giorno, i giornali che abbiamo già pronti per voi, come di consueto, ma come sempre andiamo a vedere il santo, il tempo e poi appunto le notizie del giorno. Allora il santo, oggi più che santo, ieri era il sacro cuore di Gesù, oggi è il cuore immacolato della Beata Vergine Maria, il sole è sorto le 5.26, tramonterà le 20.55. Sarà un bel fine settimana, sì di sole, cielo sereno ovunque, praticamente in tutta la regione, così come per la giornata di domani, domenica 13 giugno e ancora lunedì, lunedì addirittura nemmeno una nuvoletta sul sito della Protezione Civile delle Marche, con cielo sereno, ovunque tempo bello e stabile anche la prossima settimana, è sole, sole, è baciato dal sole, anzi, il nostro bagnino, il bagnino della settimana, Marco di Bagnialda, Ponte Sasso di Fano, buongiorno, ti sto cuocendo. Buongiorno a tutti. No dai, non è forte il sole a quest'ora. No, no, ancora no. Allora, dovete sapere che ho chiesto a Marco, prima di andare in onda, questa inquadratura, però dice ho il sole contro, non ti preoccupare, ma è bellissima questa inquadratura così, che ci fa vedere anche un po' qual è il tuo posto, luogo di lavoro, insomma, no? Esatto, 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 dove vivo 24 ore al giorno, diciamo, casa e bottega. Esatto, casa e bottega. Allora, ci giriamo, dai, così ti agevolo un po', ti evito il sole in faccia. Ok, grazie mille. Ecco qua, allora, dobbiamo fare in fretta perché, ecco qua, bellissimo. Adesso il sole in faccia ce l'abbiamo noi a casa, ce l'abbiamo noi a casa. E, no, ti dicevo, bello sentire questo rumore sottofondo dell'acqua che mette una pace, una tranquillità incredibile. Senti che bello. A quest'ora soprattutto. Facciamo silenzio. Che meraviglia. Allora, tra poco questo rumorino, questo bel rumore dell'acqua verrà coperto dal motore di un mezzo dell'Aset, di Aset, che verrà a raccogliere l'insalata, mi dicevi. Esatto. Qual è l'insalata? Facci vedere l'insalata. Eccola qua. Vediamo qua sotto dove Vanna Marchi si è arricchita. Noi ce l'abbiamo gratis. Bene, Marco. Allora, questo fine settimana, mi pare, già l'abbiamo visto dal sito della Protezione Civile, mi pare che confermi anche tu, da esperto di mare e di vento, insomma, bel tempo. Bellissimo. Questa settimana proprio ho messo sole, sole, sole. Finalmente, è arrivata l'estate, è arrivata l'alta pressione che ce l'ha fatta fatire, non si sa quanto. Perciò si parte con la vera estate, finalmente. Arriveranno i turisti questo fine settimana, Marco? Decisamente sì, con la chiusura delle scuole, con tutto quello che nei concerti è intorno e si comincia a lavorare. Oh, lì non c'è bisogno. Non soltanto con quelli del posto. Lì non c'è bisogno del green pass, uno viene lì e si mette tranquillamente a prendere il sole, a fare il bagno. Esatto, misuriamo la temperatura, se ha soggetti nuovi prendiamo il numero di telefono, tutto quello che c'è da fare e si va così. Beh, certo. Speriamo che finisca presto il tutto, guarda. Bene, allora io ti ringrazio Marco perché con questo collegamento si chiude questa settimana, spero tu ti sia trovato bene. Benissimo. Benissimo, siamo contenti di averti ospitato e di aver promosso anche la tua spiaggia, grazie. Grazie a voi. E buona estate allora, buona estate. Grazie a trattato. Adesso andiamo invece noi a vedere i giornali, giornali che come sempre sono il Carlino, edizione di Pesaro e il Corriere Adriatico. Cominciamo dal Carlino. La fotonotizia, anzi il titolo d'apertura è AstraZeneca, ora è caos richiami. L'Asur vieta prime ma anche seconde dosi a chi ha meno di 60 anni, stesso stop anche per Johnson & Johnson. La fotonotizia, multati i 60 volontari raccoglievano cibo in una zona all'epoca rossa, regole violate. A gradare invece oggi è fissato l'Astradei, però dicono loro ci adeguiamo. È un caso complicato, vedremo. Zona bianca, conto alla rovescia. Fra sette giorni, dice Acquaroli, tocca a noi. E poi a Pesaro, bici a noleggio, arrivano anche quelle a pedalata assistita. E sitin di protesta, in via Spallanzani a Pesaro, nessuno tocchi l'acquedotto romano. Sotto, Super Hucket, il trionfo CSKA ha la sua firma. Daniel, eletto miglior giocatore dei play-off ed è il quinto italiano con più trofei all'estero. Per quanto riguarda invece le vicissitudini della squadra di calcio del Fano, l'Alma. Alma, non farti illusione, c'è un solo posto per tornare in Serie C. L'unica defezione, infatti, è quella della squadra del Trapani. I tifosi si rivolgono al sindaco e dicono via Traini e Bernardini. Il Corriere Adriatico. AstraZeneca solo agli over 60. L'assessore regionale Saltamartini, dopo l'indicazione del CTS, il piano vaccinale è da riprogrammare. La prima dose per 17.645 marchigiani che hanno meno di 50 anni. Il richiamo sarà con Faits oppure con Moderna. Ieri nessuna vittima. In vigore invece, centropagina, l'ordinanza estiva che stabilisce l'isola piedonale e la zona traffico limitato su Viale Trieste. Slalom sul lungomare, questo è il titolo. Street food al porto, sempre di Pesero, il bando del comune ha una vincitrice. A Baiaflaminia l'inaugurazione del Lido per i cani. E poi gli antichi reperti nel cantiere sit-in per non nasconderli. Parliamo dell'acquedotto romano. Poi consumatrice pedinata per prendere il pusher. Da Pesero a Fano alla ricerca di dosi di cocaina. Ha condannato il giovane che aveva ceduto la droga. E poi Fano contro il disagio arriva l'unità di strada. Ma c'è un dossier sul Corriere di questa mattina che riguarda la montagna di richieste generata da ricostruzione post-sisma e super bonus 110%. È impossibile trovare delle imprese edili per fare i lavori. L'edilizia marchigiana è andata sotto stress e rischia di implodere. Il risultato è che trovare imprese disponibili è diventato difficilissimo. AstraZeneca, nuovo stop. Il Siero solo agli over 60. Bloccate le seconde dosi. L'Agenzia Sanitaria delle Marche ha recepito le indicazioni del Governo. In Regione è stato somministrato a 17.645 under 50 su 167.000 vaccinati. Ad oggi appunto questi sono i dati nelle Marche di chi ha ricevuto la prima dose di AstraZeneca. Per quanto riguarda richiami invece sono stati 10.698 nel primo gruppo e 20.587 nel secondo. E adesso il Comitato Tecnico Scientifico ha stabilito che sotto i 60 anni il vaccino AstraZeneca non potrà essere somministrato. Quindi chi ha meno di 60 anni e ha già ricevuto la prima dose del Siero anglo-svedese farà il richiamo con Pfizer oppure con Moderna. È una decisione che è stata presa ieri dal CTS dopo la morte della 18enne Ligure in seguito alla somministrazione del farmaco a vettore virale. E dunque ieri Lars Marche ha recepito queste nuove indicazioni. Intanto a gradare, come dicevamo, oggi è previsto l'Astra Day per tutti, ma è stato ovviamente rimodulato. Quindi se prima di questo tragico evento Ligure con l'Astra Day potevano fare il vaccino anche quelli che avevano meno di 60 anni, oggi le regole, come abbiamo visto, sono cambiate. Tanto fino ad oggi non sono stati nelle Marche registrati casi gravi di reazione avversa. Ora va riprogrammato tutto, però dice, vedete, l'assessore alla sanità marchigiana, Salta Martini, sarà caos per i richiami, non c'è chiarezza sui tempi da seguire. Contrario agli Astra Day, l'iniziativa di Gradara dice lui non ne sapevo nulla, non ne ero a conoscenza, ma di questa intervista vi segnalo soltanto alcune domande e alcune risposte. I dati finora raccolti parlano di effetti collaterali con conseguenze mortali e i numeri sono molto ridotti. Allora, la risposta di Salta Martini, come sempre molto pacata, non fa una piega ed è questa. Il discorso dei numeri marginali per le persone non conta. Anche fosse un solo caso, il valore della vita di una sola persona non si tocca. Lei, riferendosi all'assessore, è tra coloro che come prima dose ha ricevuto il siero di AstraZeneca. Salta Martini si è vaccinato con AstraZeneca, ha fatto la prima dose. Qualche commento. La risposta di Salta Martini è questa. La scienza per sua natura non è univoca. Non c'è mai una verità assoluta perché ad una scoperta ne succede un'altra. Per questo mi sento di dire adesso non dobbiamo farci spaventare dalla cosiddetta questione AstraZeneca, ma ragionare con razionalità. Dobbiamo avere fiducia nella scienza. Se è più efficace il vaccino a vettore virale o quello a RNA messaggero, lo sapremo nei prossimi anni. E qui io ci aggiungo come avvocato del diavolo, insomma lo sapremo nei prossimi anni. In che modo? La risposta la lascio a voi. Cerimonie in stand-by. Pressing dalle marche per l'autocertificazione. In attesa del documento anti-Covid, l'assessore Carloni chiede di sbloccare il settore. La conferenza delle regioni valuti l'ipotesi di un'alternativa per evitare sanzioni. Quindi si parla in questo articolo della questione Green Pass, ovvero si possono fare le cerimonie, per esempio, anche al chiuso, si può fare tutto, ma senza Green Pass non si può fare niente. Allora, in attesa che parta questo Green Pass, Carloni e quindi la regione Marche proporranno nei prossimi incontri, anche con le altre regioni, che cosa? Una sorta di autocertificazione, nella quale appunto uno dichiarerà di non essere, cioè di aver fatto il vaccino, eccetera, eccetera, e quindi, come dire, sulla fiducia. Ecco, mentre sulla pagina 3 del resto del Carlino c'è questa notizia che scrive oggi Roberto Dambiani di un gruppo di volontari che è stato multato perché stavano raccogliendo del cibo in zona rossa. I carabinieri della Forestale hanno fatto recapitare 60 verbali da 400 euro l'uno, sanzionata anche la vice sindaca di Tavuglia. Il presidente dell'associazione Gulliver, Andrea Boccanera, dice sconcertato ed incredulo. La regione ci ha autorizzato, andremo adesso dal prefetto. Questa notizia che troverete sulla pagina di Macerata, invece, rispetto alla notizia che vi abbiamo dato ieri nel corso del telegiornale, facendovi vedere anche le immagini di questa automobile, non so se magari Riccardo Sorra dalla regia lo sto cogliendo impreparato perché non l'avevamo... e ti chiedo scusa, non te l'avevo chiesto prima della messa in onda, ma se riuscissi meglio, altrimenti pazienza. Parliamo di questa macchina, vedete, questa Renault Clio in contromano sulla corsia Maremonti della superstrada 77. È una tragedia ovviamente che è stata evitata per miracolo, ma rispetto alla notizia che vi abbiamo dato ieri, un po' parziale, in realtà sul giornale scappa fuori oggi che... ecco, forse abbiamo le immagini, grazie Riccardo. Facciavole vedere allora a macchia, mentre io commento. Allora, questa Renault Clio, che vedete va in controsenso sulla corsia Maremonti, dallo svincolo di Monte Cosaro fino a Civitanova, aveva al volante un ragazzo, un ragazzo di meno di 30 anni, del Terramano, che voleva niente meno che suicidarsi. Aveva deciso di uccidersi, prendendo contromano appunto la strada. A bordo con lui, sul lato passeggero, c'era un suo collega di lavoro, tutto questo è successo intorno alle 13.30, un suo collega di lavoro che però ha fatto in tempo a scendere dalla macchina e a dare l'allarme. Quindi questa è la notizia che poi si è saputa meglio nel corso della sera. Quindi lui voleva suicidarsi, però per fortuna è stato bloccato da un altro automobilista che ha capito che stava prendendo contromano la strada e quindi lo ha bloccato. Un romano che ha capito tutto, chiaramente non aveva capito che voleva suicidarsi, però che stava sicuramente andando in una brutta strada. Parcheggio del Foro Boario, torniamo a Fano, buche e degrado. I residenti dovrebbero avere, essere un biglietto da visita per la città, invece, invece, inesistenti gli stalli che permetterebbero posteggi più ordinati. Dunque questo parcheggio al Foro Boario è una brutta cartolina, soprattutto appunto per i turisti, per coloro che vengono in città per la prima volta. Allora, parliamo invece qua e qui sulla prima pagina di Fano, si parla di questo ennesimo passaggio, questa che noi continuiamo a chiamarla ex carifano, ma della carifano veramente non c'è più niente ormai da tanto tempo, perlomeno nel nome. Ex carifano diventa credit agricole, serie faresi incontrano i vertici. L'ex carifano diventa credit agricole, la banca francese infatti ha di recente assunto il controllo di Creval, in cui nel 2016 era confluita carifano. E questa è la ragione che ha spinto il sindaco di Fano Seri e il vice Cristian Fanesi ad incontrare il responsabile della Direzione Romagna e Marche di Agricola Italia, Filippo Corsaro. L'incontro si è svolto ieri mattina in municipio. Poi si parla di parcheggio a pagamento, la Lega di Fano protesta dopo aver messo in difficoltà il centro storico, ora è il turno del lungomare, continuano in malumore per la decisione presa. La cronaca coca un anno e sei mesi ad un ventenne al pusher del palazzetto dello sport di San Lazzaro. Promozione turistica, Fano fa il Giro d'Italia, presentata dal Comune, la nuova campagna di comunicazione. Fano è la vacanza giusta. Occorre recuperare il senso delle relazioni, invece, sempre sulla pagina di Fano di Carlino, la città si interroga alla presentazione delle proposte estive dell'unità di strada, dell'ambito territoriale 6, un focus sui giovani. Poi c'è l'ultima lettera, che ha un volume scritto da Sergio Schiaroli, Fanesitudine tra gioie e dolori. Mentre dalla pagina del Corriere di Fano, serie fanesi contatto avvenuto, la ripresa con Credita Agricola, Sindaco e Vice hanno gettato le basi del rapporto con il direttore regionale della Banca, Filippo Corsaro. Sotto, ipogeo, Sebastianelli, siamo a terra roveresche, getta benzina sul fuoco. L'opposizione, la nostra intenzione, è cercare un punto di accordo. Nessuno tocchi l'acquedotto romano, invece, da Pesaro, sit in di protesta in via Spallanzani. Intanto si apre un fronte con la sopraintendenza. Previsto un incontro con il Comitato la prossima settimana. Cittadini partecipi. L'offreda dice rifacimento ottocentesco. Se così fosse, si possono anche demolire il Palazzo Ducale e Rocca Costanza. Poi, sulla pagina 10, invece, del Corriere, sempre da Pesaro, Isola e non Giungla, segnaletica chiara per chi viene ospite. La richiesta del Presidente APA, quello degli albergatori Oliva, a nome di tutti gli imprenditori del mare. Cartellonistica, presidie, mappe aggiornate per limitare i disagi al turista. Poi, da oggi il rifugio, passiamo dal mare, da Viale Trieste a Montenerone. Da oggi il rifugio Corsini diventa operativo. A giugno sarà aperto nel fine settimana. Praticamente nel mese di giugno sarà aperto soltanto il venerdì, sabato e domenica, dalle ore 11. La domenica dalle ore 9. E poi luglio e agosto, invece, è aperto tutti i giorni. Da Apecchio, quindi da Montenerone, Medeo Pisciolini questa mattina racconta la storia di questo luogo, che è una storia bella, affascinante, iniziata oltre mezzo secolo fa. E quindi questo rifugio Corsini, che adesso è tornato, anzi è tornato, è completamente ristrutturato, nuovo, perché quello che c'era prima è andato distrutto da un terribile incendio. Torna alla Straducale di Urbino, con oltre 800 ciclisti. La manifestazione è prevista per domenica 20 giugno. Dopo lo stop dell'anno scorso, hanno risposto da tutta Italia a richiamo della gara. Il più lungo sarà di 125 chilometri, fino a 1130 metri di altitudine. Il più breve sarà, invece, pur sempre di 85 chilometri. L'ultimo saluto ieri al Re del Caffè, l'omaggio ad Alberto Pascucci. I dipendenti hanno suonato tutti i clacson dei mezzi aziendali al passaggio del corteo funebre. A Senigallia, dal Carlino, l'ospedale cambia, cinque nuovi primari, da gastroenterologia a chirurgia, ecco i nomi, Corinaldesi è senigalliese, nomina, dunque, dalla Valenza doppia. E poi la storia, la storia non c'è posto per papà al cimitero, sempre da Senigallia, la battaglia di un cittadino. Mi hanno detto, racconta lui, che dovevamo attendere un loculo alle grazie, e poi, invece, lo hanno dato a qualcun altro. La Salma ora si trova a Roncitelli e lui dice, sconsolato, ci sono morti di serie A e di serie B. Siamo in chiusura, Fano, rinforzi per la società, il sindaco Seri avrebbe trovato un imprenditore locale disposto ad affiancare l'attuale presidente, Fatto Offidani. Il presidente, dunque, potrebbe avere presto un socio fanese, lo avrebbe individuato il sindaco Seri, mettendolo in contatto con la proprietà Granata, per cercare di capire come eventualmente inserirsi nel progetto avviato la scorsa estate dall'imprenditore San Benedettese. Ok, siamo alla fine. Sì, abbiamo chiuso qui la nostra pagina, l'ultima pagina della nostra selezione. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Sette per Occhio, mentre l'informazione torna domedì mattina, puntuale, come sempre, alle 7, con Occhio ai giornali. Arrivederci.